In un campionato dominato dalla polisportiva Stella, il Villa Marina si contende il secondo posto con i cugini del Bacchia e sfida il Delfini Rimini nel 22esimo turno del girone I di prima categoria. Andiamo con l'immagine al quarto minuto di gioco con i Delfini Rimini in avanti, un'azione insistita, l'assist di Doria per Fabri, il tiro però è respinto in angolo dal portiere Fabri. Al quinto, un minuto dopo, la squadra degli ospiti a passare in vantaggio dal successivo corner, infatti stacca di testa Guidi che insacca, supera Gianmarco Fabri e porta in vantaggio i Delfini Rimini. Il diciannovesimo minuto di gioco ancora una volta, sono gli ospiti a rendersi pericolosi a questa azione, insistita, questo recupero sulla tre quarti. Il pallone di Fabri pesca in area Doria che segna doppio vantaggio per il Delfini Rimini, un 2-0 che potrebbe spezzare le gambe al Villa Marina ma come vedremo dalle immagini non sarà così. Al 31esimo infatti è la prima reazione, il primo squilo del Villa Marina, questo pallone per Lorenzini, l'assist di Claudio Candoli. Lorenzini non sbaglia e accorcia le distanze. Qualche minuto più tardi siamo al 35esimo minuto di gioco, avanti è il Villa Marina e l'azione personale è quella di Claudio Candoli. Prima l'assist e poi il gol con lo scavetto sul portiere esulta con la famiglia Claudio Candoli, il numero 7 del Villa Marina che dunque rimette tutto in parità. Al 40esimo è un'altra chance per il possibile 3-2 da parte del Villa Marina, un'azione insistita da parte di Lorenzini che entra in area e si guadagna un calcio di rigore per un contatto subito con Tebaldi. Al 41esimo va dal dischetto il numero 10, Righini, che però sbaglia, riesce infatti Berardi a bloccare la conclusione debole proprio di Righini. Ultimo minuto di gioco del primo tempo, altra chance per il Villa Marina, il colpo di testa è vincente da parte di Pagliarani ma l'arbitro annulla tutto per fuorigioco, proteste da parte della squadra di casa. La decisione però è revocabile e nel secondo tempo il calcio, come sapete, è strano. Cambia tutto, tante occasioni per il Villa Marina sulla 2-2 ma a punire è il Delfini Rimini con questa azione quasi coast to coast da parte di Doria che parte dalla sua metà campo e infila Gianmarco Fabri per il 2-3. Siamo al 17esimo minuto di gioco, sempre della ripresa con i Delfini Rimini con questa azione sulla sinistra. Il pallone se lo ritrova tra i piedi proprio Fabri con questo tiro in controbalzo, un sinistro vincente che sancisce quello che poi sarà definitivamente il risultato, il 2-4. Una partita dai mille volti, una partita che regala ancora emozioni all'ultimo minuto di gioco al 48esimo. Il colpo di testa di Pagliarani è debole, riesce a bloccare il portiere ospite quindi in una partita non solo dai due volti ma addirittura dai quattro volti la partita tra Villa Marina e Delfini Rimini finisce 2-4.